Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? The legend is back, legend is back, Gormiti! Eccomi Giada, scusa al ritorno, e scusami, ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Come avete visto, un sacco di sorprese Gormiti che anche oggi non potete assolutamente... Giada, no, ma davvero? Ma senza dirmi niente, ma così? Cosa? Grazie, e non dovevi, è proprio lui, fa vedere un po'... E Tiffon! Alfa Tiffon, Giada, e allora intanto ti devo chiedere scusa per tutte quelle volte che ti dicevo che perdevi, non era vero? Non lo pensavo Giada, non lo pensavo, sei fantastica, un'amica incredibile, bravissima, sei gentilissima, non dovevi, grazie! Che cosa vuoi? Regalino! Ma non è per te, Gianni! Ma come? Lo so che fai così, non è per te, poi mi fai, ah, ho fatto lo scherzo, Gianni, è per te! No! Non c'è bisogno di fare tutta questa cosa! No, no, sono davvero seria, Gianni, non è per te! E perché? L'ho preso per il fratellino di una mia amica! Eh, ma... E sarò davvero felicissimo, guarda che bello! E ci credo che sarà felicissimo, è Alfa Tiffon, chi non potrebbe essere felice? Devo svelarti un segreto, però! Che è successo? Però shh, non dirla a nessuno! No, dimmi, dimmi, mi piacciono i segreti! Ho utilizzato il codice promo che c'era nella scorsa puntata dei Gormiti per prenderlo! Il codice promo? Sì, il codice promo! Eh, Giada, ma scusami, dov'era quel codice promo che era in giro? Eh, devi stare molto attento, eh! Perché si nasconde durante la puntata! Ma sei già nascosto? Che lo devo subito segnare? Eh, cercano, cercano, magari lo vedi! Eh, Giada, non c'è, lo trovo, non si trova! Vabbè, facciamo una cosa! Che cosa? Una cosa tramite te, ok? Un segreto, non dirlo a nessuno! Soprattutto all'amica del fratellino, della sorella! A chi l'hai preso questo regalo? Ah, al fratellino della mia amica! Ok, non diglielo, perché magari si arrabbia! Tu adesso mi passi lo scontrino della tua prova di acquisto! Io lo prendo e lo inserisco nel sito, così posso partecipare al concorso Vinci i Gormiti, così finalmente vinco anch'io! No, Gianni, no, 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 no! Come no, 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 no? No, perché glielo do a lei, così il suo frattolino avrà un'altra cosa! Eh, ma uff, allora io non partecipo così! Ma, Gianni, partecipare è tanto facile! Allora, adesso ve lo spiego! Sì! Vi basta andare sul sito vincigormiti.giochipreziosi.it Ok! Mi raccomando, quando fate il vostro acquisto, tenete lo scontrino o la ricevuta, perché vi servirà per caricarla sul sito e partecipare all'estrazione giornaliera o quella settimanale! Sì, però Giada è fino all'11 giugno! E manca poco, Gianni, ci sono tantissimi premi gourmetici però! Sì, è giusto, tra l'altro quelli settimanali, te lo ricordi? Quella fantastica scenografia con l'ambientazione pop-up! Il pop-up! Esatto, che è uguale, uguale al cartone animato della serie 3! È bellissima! E insieme ci sono 11 personaggi della serie 3! Io, Giada, corro subito ad acquistare un prodotto, così inserisco la prova di acquisto e finalmente posso vincere anch'io! Ottima idea, Gianni! E incrocia le dita con me, Giada! Va bene! Ok! Però adesso andiamo avanti, perché c'è una bella sorpresa! Sì, ma continua a incrociare le dita! Oh, Giada, Giada, Giada! Sei pronta per perdere? Non sono proprio pronta per perdere, ma prima dobbiamo vedere gli ultimi 4 personaggi! Guarda il video! Giusto! Guarda il video! Hai visto quanto sono diventati forti, bellissimi, gormitici? Sono sempre, sempre più belli. Ma voi li avete già trovati in Edicora o nei negozi di giocattoli? Correte, mi raccomando. Allora, Giada, sei pronta? Prontissima. Ok, ok, ok. Tra l'altro, l'altra volta abbiamo fatto pure pareggio. Ti è andata bene, Giada, ti è andata bene. Quella è quella perdente, brava? No, questa è quella che vincerà. Andiamo, tre, due, uno. Queste perdi non piangere, Gianni. Non piangerà, è impossibile. È impossibile perché ho trovato un personaggio che a me piace davvero tantissimo. Lo sai che io tengo molto al magma? Ok, perché c'è la Lord's Carry, insomma. Io ho trovato Alfa Urik. Io invece ho trovato Antium. Antium, Giada, è impossibile. Perché stai ridendo? Perché contro Alfa Urik non so quante probabilità tu abbia. Non si sbircia, carissima Giada. Che numero hai sulla card? Allora, sulla card, Giada, preparati perché oggi mi sento imbattibile. Alfa Gormietico, superforte. Il numero? Otto, Giada. Otto, otto. Tu? Io? Il numero sette. L'ho visto che era il numero sette perché ho sbirciato. Però è leggermente più basso, non troppo. Ok, otto più sette. Posso ancora vincere? Vediamo, vediamo, vediamo. Tu sotto il piede. Dai, forza. Il numero tre. Davvero? Sì. Guarda un po'. Cos'è? Anche tu? Il numero tre, ragazzi, però, per un punto, vinco io. Sono fortissimo, sono imbattibile, super Gormietico, Alfa Gormietico. Giada. Mi allenerò e ti batterò la prossima volta. Giada, vieni a fare con me il corso per vincere con i collezionabili. Non c'è nessun corso, Giada. Sono il maestro, lo sanno tutti. Ma, senti, facciamo una cosa. C'è un nostro amico che vuole farci vedere la sua collezione. Giusto. Andiamo a vederla. Sì, però, Giada, io devo mostrare, ti ricordi, la mia collezione della Serie 1, i due personaggi. Li prendo? Vai a prenderli. Vado a prenderli. Ciao, Loris! Ciao! Come stai? Tutto bene. Tutto bene. Domanda, un secondo, Giada, devo interrompere la cosa. Dimmi se riconosci questi due personaggi. Zephyr e Avok. Zephyr e Avok, sai perché ho in mano due personaggi della Serie 1? Perché c'è una super sorpresa. Perché da adesso nei negozi ritroviamo alcuni personaggi della Serie 1 e siccome magari qualche bambino non li ha, tu li hai per esempio? Sì. Ah, vedi, lui ce li ha. Tu sei fortunatissimo perché magari li hai tutti, però magari qualche bambino non ce li ha, può correre nei negozi. Sì, io li mamma. Però Zephyr, non ce l'ho Zephyr. Ciao! Ah, vedi, Zephyr lo troverai nei negozi, però per un periodo... Un periodo limitato. Un periodo un po' corto. Ma io vedo che hai una super collezione lì dietro, tu sei un super super fan. Eh, è un negozio di giocattoli gormitici il tuo. Facci vedere un po'. Qual è il tuo preferito? Zephyr, Palladium, Xathar e Koga. Ah, allora Zephyr devi assolutamente aggiungerlo alla tua collezione, direi, perché sei uno dei tuoi preferiti. Giada! C'è quello make up, Zephyr. Il codice promo l'hai visto? Il codice promo l'hai visto? Sì. Eh, l'hai visto anche tu. Ma con questo codice promo sai cosa si può fare? Si può andare sull'e-commerce di giochi preziosi. E il sito. Il sito di giochi preziosi e ci sono tantissime promozioni, tantissime sorprese. Tantissime novità. Ma adesso facci vedere, hai anche il sempre in piedi, giusto? Quello che puoi tirare, i pugni, i calci. Oh, ma fai dei combattimenti con quello. Sì, sì, ce l'ho. Ma ti sei allenato con quello? Sì. Ed è fortissimo lui, è bravissimo. E vinci, di solito. Vinci? Sì, dai. Sì, certo. Gormita come te. Certo. Ma il gormiticio lo guardi, vero? Sì. Ah, vedi. Vedi, vedi. Ma in quale parte ti piace di più? Quella delle sfide dove ci sfidiamo io e lui, per caso? Quando guardi il gormiticio qual è la cosa che ti piace di più? Sì. Ma sai chi vince tra i due? E' un po' confuso. No, è... No! Ma già, ma scusami, ma cioè non è che è una cosa nascosta, lo sai? No, ma qualche volta vinco anche io, vero? Ma qualche volta? Qualche volta sì. Qualche volta? Hai detto di sì. Ma sì, qualche volta quando sei fortunata, non è che c'è sempre tutta la fortuna, tu. Ce l'ho io. Ma i cartoni invece li guardi? Sì. Nei gormiti? Sì. Sì? Ma ecco, i tuoi gormiti cosa fai? Inventi delle battaglie, delle storie, come gioco di solito. Delle battaglie. Delle battaglie, ma vincono i cattivi e i buoni in queste battaglie. I buoni. Oh, bravissimo. Bravissimo, palladium in questo caso. I buoni vincono sempre, dai. Vero? Sì. Va bene, allora, noi dobbiamo proseguire la puntata perché abbiamo tantissime cose da fare. Per salutarci lo facciamo in un modo gormitico. Apri le braccia. Con noi. Ok? Apri, apri. E adesso? Stringi. Stringiamo forte. Così ci mandiamo un abbraccio virtuale. Ci siamo abbracciati un po' a distanza perché questo è il periodo, però intanto ci siamo abbracciati. Ci mandiamo un bacione. Grazie per aver fatto questo collegamento con noi e per averci salutato. Faccio un grande ciao, ciao, ciao. Ciao. C'è anche il cappello. Grande, c'è anche il cappello. C'è anche il cappello dei gormiti, come il mio, guarda che bello. Anch'io ce l'ho, anch'io ce l'ho. Ti mandiamo un bacio. Ciao. Un abbraccione. Ciao. Parlare con voi ci piace davvero tanto e tra l'altro è uno dei miei momenti preferiti. Sì, è così bello. E partecipare è facilissimo, basta andare sul sito gormitishow.com. Vi aspettiamo virtualmente. Ora Giada, è arrivato il momento della bacheca gormitica. Oggi ci sono arrivati dei disegni e delle foto. Ci hanno mandato due disegni Javier e ci ha scritto, mi chiamo Javier, ho sei anni e sono di Aosta, sono un appassionato di gormiti come voi e vi guardo sempre. Vi mando due disegni e spero che vi piacciono. Tra l'altro uno ha disegnato Crowbook, poi abbiamo Tiffon, Saburo, Omega Lord Voidus. Sono davvero bellissime, poi sono tutti col sorriso. Comunque sei davvero un artista, sei molto bravo a disegnare, complimenti. Poi c'è arrivata una foto. Ah sì, ok, leggo io. Ciao Gianni e Giada, come state? Noi tutto bene? Poco tempo fa c'è stato il compleanno di Matilde e per l'occasione ha fatto realizzare una torta gormitica con l'immagine creata da lei. Non trovate che sia molto carina? Vi mandiamo un gorma abbraccio fortissimo e non vediamo l'ora di potervi incontrare dal vivo Matilde e Marco. Speriamo di incontrarci presto e tanti auguri. Grazie Matilde che ci mandi sempre tantissime cose e ormai sei super, 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 super gormitica. E guarda Gianni che buona questa torta, deve essere buonissima. Sì, Giada, non è il momento di mangiare. Questo è sempre io quello che mangia. Eh vabbè, ma i dolci sono dolci. Proste le torte di compleanno. Proseguiamo. Ci è arrivato un altro disegno e ci hanno scritto, ciao sono Gianni. Oggi vi mando il mio disegno di titano degli elementi, spero vi piaccia. Un grande saluto a Gianni e Giada. E si chiama come me, Gianni. È vero, sì. Ciao Gianni, mi piacere, io sono Gianni. Gianni, Gianni. Gianni, Gianni. Hai fatto un disegno bellissimo, sembra quello... Wow. Cioè, sembra originale. Ma davvero l'hai fatto solo tu senza l'aiuto di nessuno? Complimenti. Complimenti davvero perché è pazzesco, è davvero molto molto bello. E se anche voi volete mandare i vostri disegni, mandateli sul sito gormitishow.com. Potete mandarci le dediche, i disegni. Le foto. La vostra candidatura per stare con noi virtualmente. Qualsiasi cosa, gormitishow.com. Giada, hai finito la puntata? Eh sì, mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like. E condividete il video. E soprattutto, eh. Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.